Questo video è rivolto a chi è in una fase di transizione, chi vuole cambiare la propria vita o a chi finalmente vuole trovare il senso della propria vita. Per iniziare questo viaggio c'è un bel lavoro da fare, ma soprattutto prima di ogni altra cosa è necessario acquisire una attitudine, o meglio, la capacità di accettare qualcosa, di accettare l'unicità. Cosa intendo con unicità? Intendo quella particolare condizione per la quale tu, proprio tu, sei diverso da tutti gli altri e fin qui sembra banale, ma vuol dire anche che vedi, che senti, che capisci nel tuo modo, che accetti o non accetti il dolore e la gioia nel tuo modo, che sogni alcune cose che sono soltanto le tue cose. L'unicità purtroppo è una condizione meravigliosa di esclusività, di originalità, ma è anche la condizione sine qua non della solitudine. Tu sei solo, sei sola, come direbbe Kant, sei una monade. E l'unicità è fondamentale da accettare come sinonimo appunto di solitudine. Ovvero, perché dico che sei solo o che sei sola? Perché puoi parlare con me del tuo desiderio più profondo. Mi puoi cercare di trasmettere come vedi quest'erba del prato, la luce del cielo. Mi puoi spiegare che cos'è per te l'amore, ma io non sarò mai te e io non sentirò mai come te. Quindi io sarò sempre fuori di te. Questa banale ma importante riflessione deve diventare una consapevolezza e deve diventare qualcosa da accettare. Cioè, solo se accetterai di questa solitudine, di essere unico o unica e di essere solo, solo così potrai iniziare il viaggio. Perché nel viaggio si è soli. Perché nel viaggio si trova la propria strada, non quella di qualcun altro. E perché trovare la propria strada molto spesso ci separa da alcuni, dai propri cari, a volte dalla condizione in cui ci troviamo, dall'ambiente in cui ci troviamo. E quindi unicità, solitudine, sono un passaggio fondamentale per arrivare a realizzare la tua vita e trovare il tuo destino ideale. Ecco perché voglio iniziare da questo punto. Per cui, tranquillo, tranquilla. Lo puoi fare gradualmente. Puoi iniziare ad accettare la solitudine anche semplicemente venendo in un parco e stando da solo, riflettendo sulla tua vita, riflettendo sull'esistenza, ma soprattutto cercando di sentire, facendo silenzio di tutti i rumori di sottofondo, cercando di sentire qual è la tua vera vocazione, qual è lo scopo della tua esistenza. E quindi partiamo dalla solitudine per arrivare al nostro destino. Buon destino a te che stai ascoltando e soprattutto ti aspetto per i prossimi video.